Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video riguardante il Parma Calcio e quindi parlando appunto del Parma, sciarpa al collo e iniziamo questo nuovo Parmiamone voi magari vi chiederete perché Papirus fa sempre video all'interno della propria auto? Cosa c'ha sta macchina di tanto bello? Nulla, semplicemente che la luce è perfetta all'interno di una macchina si vede perfettamente, poi non do fastidio a nessuno, né in casa né fuori i rumori sono il minimo in assoluto, quindi meglio di registrare in macchina una reaction, una cosa di questo tipo un commento alla partita non si può fare, secondo me, l'unica cosa negativa è che può arrivare qualcuno fuori dalla macchina a dire, oh, bussando, che stai facendo? L'unica cosa negativa Per il resto, parliamo della partita che c'è stata appunto tra Parma e Piacenza almeno per quanto sto registrando io ieri sera, non so se riuscirò a farvi vedere il video già stasera altrimenti sarà per appunto domani, per me, però voi lo state vedendo in questo momento, quindi il video è uscito Allora, cosa è successo? Io sono stato allo stadio e quindi vedrete la reaction, diciamo, live della mia serata diciamo, allo stadio, la vedrete, quindi vi renderete conto, diciamo, di quello che ho fatto e quello è un altro discorso, magari non parlerò della partita, vi faccio tanto vedere che cosa è successo quando ero allo stadio Per il resto, io vorrei parlarvi sia della partita Parma-Piacenza, sia dei gironi e scusatemi, delle, come posso dire, dei sorteggi, non mi veniva la parola dei sorteggi che ci sono stati dei quarti di finale, delle Final 8, dei playoff di Lega Pro Allora, parliamo prima della partita andando con ordine Parma-Piacenza e Parma finalmente ha giocato come chiedevo io Finalmente ha giocato in maniera aggressiva, lottando su tutti i palloni Si è visto una squadra che lotta, una squadra che si è chiusa perfettamente in difesa proprio come voleva il mister che alla vigilia appunto diceva che voleva una squadra prima di tutto bloccata in difesa poi per l'attacco si sarebbe visto dopo successivamente infatti così è andata una squadra che ha iniziato ad attaccare fin dal primo minuto molto bene ho visto i primi 10 minuti, il primo quarto d'ora una squadra molto attendista ma quello forse era più che altro per uno studio della squadra del Piacenza e quindi ci sta per la mano del cielo quindi diciamo tutto quello che ho detto all'andata la partita per come era andata all'andata col segno di poi è stato giusto così cioè all'andata fuori casa magari belli bloccati 0-0 tranquilli poi in casa dare il 100% ci può stare come mossa però questo che voglio vedere almeno lo volevo vedere il lottare su tutti i palloni andare a calciare sempre decisi in porta ho visto un Baraje molto giù veramente molto giù a livello atletico penso che abbia avuto un piccolo infortunio precedentemente alla partita per questo l'ho visto molto giù faceva molta fatica a saltare l'uomo ha sbagliato un gol assurdo a porta vuota 3 contro 0 praticamente però poi ha segnato il gol del 2-0 quindi va benissimo così l'unica pecca magari della partita a parte Baraje che ha giocato un po' così così l'unica pecca ho visto l'attacco questo però l'ho visto nel primo tempo l'attacco che è molto statico ho visto che si muovono di più i centrocampisti che gli attaccanti è una cosa che io da ex attaccante non condivido non so se magari è una scelta del mister però una cosa che mi ha fatto un pochino storcere il naso però vabbè complimenti al Piacenza oddio mi è caduto il telefono complimenti a Piacenza comunque che ha fatto un'ottima partita più di quello secondo me faceva fatica a fare Piacenza è un ottimo organico però d'altronde ragazzi quando gli individuali i giocatori così forti individualmente come quelli del Parma emergono si fa vedere la classe quindi non poteva far nulla il Piacenza poi ha giocato anche in 10 per un certo momento un po' della partita quindi ci sta che non ce l'abbia fatto comunque grandi complimenti al Piacenza per l'ottima partita comunque disputata sia da andata che da ritorno con questo atteggiamento si può andare avanti continua a scivolarmi il telefono sì certo che si può andare avanti con questo atteggiamento della partita di ritorno col Piacenza allo Stadio Tardini sì si può arrivare ovunque e ora arriviamo al sorteggio al sorteggio che ci è andato di lusso ok ci è andato di lusso voi magari ne lo faccio vedere qui in una bellissima immagine il Parma ha beccato la Lucchese Lucchese comunque squadra temibile perché è arrivata qui chiunque Parma becchi in questo momento è una squadra temibile ok partiamo da questo presupposto però rispetto a Alessandria che è arrivata seconda Lecce che è arrivata seconda che tra l'altro si scontreranno loro due mi dispiace per loro però per noi va bene perché una delle due volerà fuori per forza dall'altra parte del dei quarti di finale insieme a Reggiano e Livorno altre due squadre temibili per noi con il Livorno per cui noi abbiamo beccato la parte più semplice così e così possiamo dire quindi ci è andata davvero davvero di lusso sto sudando con sta sciarpa oddio fa caldissimo 30 gradi dentro la macchina possiamo capire quindi ci è andata veramente di lusso mercoledì 31 non so se andrò allo stadio Tardini a vedere la partita nel caso vedrete il video comunque ve lo dirò e il ritorno si gioca il 4 giugno a Lucca ragazzi dobbiamo stare molto attenti giocare in maniera concentrata però sempre aggressivo così come abbiamo fatto contro il Piacenza è sicuramente alla nostra portata dobbiamo però dimostrare sul campo la nostra superiorità e non soltanto perché ci chiamiamo Parma sfruttiamo sul campo dimostriamo sul campo la nostra superiorità e battiamoli mi dispiace per chi ti fa Lucca per chi ti fa Lucchese però d'altro l'altro ti fanno Parma è così che bisogna dire giusto se dovessimo passare prenderemo una tra ora vado a memoria Pordenone e Cosenza una tra Pordenone e Cosenza Pordenone già lo conosciamo perfettamente il Cosenza un po' meno per cui tra le due io preferirei Pordenone soltanto perché è una squadra che già conosciamo soltanto per questo però questa sarà l'ultima partita sicuramente si giocherà quest'anno al Tardini perché poi essendo andate in ritorno dalla semifinale del Final Four possiamo dire si giocherà partita secca a Firenze speriamo speriamo davvero bene però con questo Parma che ha giocato questa partita si possono vedere belle cose io sto già sognando sinceramente un bel derby in finale con la Reggiana non si può mai dire lasciate un commento qui sotto ragazzi io devo chiudere perché sto sudando da fare schifo mi raccomando lasciate un mi piace sulla pagina Facebook qui sotto che siamo davvero pochissimi su Facebook facciamo così il prossimo video che farò così a tu per tu col telefono i prossimi due diciamo no anzi facciamo così sceglierò due persone che metteranno mi piace da adesso fino al prossimo video a caso ok in maniera a caso e li saluterò qui sotto come sta facendo adesso magari si Simo ti sto copiando questa cosa però è fighissima perché io ho pochissima gente su Facebook quindi sarebbe un modo per aver più gente magari commentate qui sotto ragazzi sto grondando vado a casa fammi la doccia immediatamente ciao ragazzi forza Parma grazie a tutti grazie a tutti